Cosima non era in garage, ma al primo piano della villetta, il giorno della morte di Sara Ascazzi. La difesa di Sabrina non demorde e la sezione tarantina della Corte d'Assise e d'Appello di Lecce ha disposto a una perizia d'ufficio per verificare se vi è stata la corretta interpretazione dei dati della consulenza tecnica dei carabinieri del ROS di Lecce, sulle celle telefoniche agganciate nel pomeriggio del 26 agosto 2010 dai cellulari delle due donne. Nel corso dell'udienza è dichiarata inammissibile la memoria presentata dall'avvocato Nicola Marseglia corredata da una consulenza tecnica del perito Antonio Politi, rigettata dai giudici la richiesta di ascoltare i carabinieri del ROS sulla perizia contestata. L'istanza del legale, oltre che il rituale tardiva, non è legata a prove nuove e sopravvenute dopo il giudizio di primo grado. Prossima udienza il 10 aprile, quando sarà affidato l'incarico al perito. Una nuova consulenza che farà slittare il calendario delle udienze precedentemente stabilito. La perizia ha spiegato la corte e viene assegnata alla luce delle sollecitazioni della difesa di Sabrina Missieri che ha addombrato la possibilità di un errore nell'analisi dei file log effettuati dal ROS e che andrebbe a incidere sulla ricostruzione dei fatti. Respinta dunque la relazione del perito allegata alla memoria difensiva depositata il 6 marzo scorso dal legale di Sabrina Missieri, secondo il quale vi è la prova scientifica che il cellulare di Cosima Serrano potesse essere al piano superiore della villetta alle 15.25 del 26 agosto 2010, giorno del delitto.